Nel 2010 l'allora governatore di Banca Italia a Monì. L'evasione è un freno alla crescita perché richiede tasse più elevate per chi le paga. Riduce le risorse per le politiche sociali. Ostacola gli interventi a favore dei cittadini con redditi modesti. Nel discorso per la fiducia ha annunciato un rinnovato e rafforzato impegnonella azione di contrasto all'evasione. Un mese dopo, le bozze del DL sostegni contengono quello che la sottosegretaria guerra definisce peggio di un condono. Macelleria sociale è una espressione rozza ma efficace e io credo che gli evasori siano tra i responsabili. Correva l'anno 2010 e Mario Draghi, che l'anno successivo sarebbe approdato alla BCE, stava leggendo le considerazioni finali da governatore di Banca Italia. Si interruppe per continuare a braccio, aggiungendo frasi lapidarie sull'evasione fiscale. È un freno alla crescita perché richiede tasse più elevate per chi le paga. Riduce le risorse per le politiche sociali. Ostacola gli interventi a favore dei cittadini con redditi modesti. Stringato, ma apparentemente altrettanto netto, il passaggio inserito nel discorso per la fiducia al Senato, lo scorso 17 febbraio, va studiata una revisione profonda dell'IRPEF. Riducendo gradualmente il carico fiscale e preservando la progressività. Funzionale al perseguimento di questi ambiziosi obiettivi sarà anche un rinnovato e rafforzato impegno nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. Un mese dopo, le bozze del primo provvedimento economico del governo Draghi contengono quello che la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra definisce, peggio di un condono. Perché, è una cancellazione con cui si abbuonano in posta. Interessi e sanzioni anche a chi potrebbe pagare. L'operazione che l'esecutivo ha inserito nel decreto sostegni su richiesta di Lega e Forza Italia prevede infatti che siano stralciate tutte le cartelle esattoriali fino a 5.000 euro risalenti agli anni dal 2000 al 2015 comprese quelle ancora esigibili. Come ha spiegato l'ex ministro Vincenzo Visco, si tratta di «evasioni conclamate» perché quei debiti sono stati messi a ruolo dopo che il contribuente non ha pagato. Se poi la volontà è quella di aiutare chi non è in grado di saldare il dovuto, come ha fatto notare Guerra, sarebbe sufficiente limitare l'intervento a quella platea. Ammesso che chi aveva una cartella e desiderava mettersi in regola non abbia già aderito alle numerose possibilità di rateizzazione offerte negli ultimi anni. Grazie per la visione!